Dico sempre, a prima vista, al primo colpo d'occhio, le facce di ogni mattina, i vicini di casa, la gente che incontriamo in metropolitana, nell'autobus, le facce di ogni mattina ma col vestito della festa, del battesimo, la laurea, giovani impertinenti ma senza ghigni, anche l'idea della priscatole, guardate, è una trasgressione ingenua, nulla a che vedere con il cappio con cui si presentò la Lega tanti anni fa. E non si può nemmeno prenderli in giro perché sono sprovveduti, perché parlano come Paperoga o Ciccio di Nonna Papera, perché comunque sono più belli loro di statisti come Gigina Purpetta, Verdini, sono certamente meno sguaiati della Santanchè e persino di qualche vecchio arnese di sinistra, gente da apparato in cerca di poltrona. Però ecco, adesso li guardo meglio, guardiamo meglio, sfumano, sfumano perché dietro appaiono le figure, cosa sono? Ecco, il gatto e la volpe, Grillo e Casaleggio, le facce di Grillo e Casaleggio sono bislacche, sono ridanciane, sapute, squillanti. Grillo è quello che nelle comitive grida sempre di più e Casaleggio quello che fa scoppiare i pedardi sotto le sedi dei professori. Il problema non è l'estraneità dei marziani a Roma, perché sono stati i marziani a Roma, già quelli della Lega, i berlusconiani di Publitalia, i mistini per la prima volta al potere, gli integralisti di comunione e liberazione. La differenza è che questa volta i Pinocchi non sono stati mandati, ma sono telecomandati al campo dei miracoli, dal gatto e dalla volpe.